Ciao a tutti, sono Marco Crippa di GameLegends e siamo qui quest'oggi alla Milan Games Week con Andrea Basilio di Lunar Great Wall Studios che ci presenta Another Sight. Allora, cominciamo con la prima domanda. Dalla vostra entrata ufficiale nel mondo dei videogiochi, con l'annuncio di questo febbraio, è già passato qualche mese, con di mezzo anche alla Gamescom 2018. Come si è consolidato il team durante questo periodo di tempo? Beh, allora, dalla Gamescom un po' di cose sono cambiate. Per prima, la cosa più importante direi che il gioco è uscito. Quindi adesso stiamo ascoltando la community e seguendo le attività post-lunch. Il gioco è uscito su Steam il 6 settembre, come ho detto. Stiamo lavorando anche la versione console e abbiamo anche delle sorprese in servo per il nostro studenti PC. Quindi tenete d'occhio il gioco su Steam perché presto ci saranno delle sorprese. Allora, il titolo di esordio per lo studio è Another Sight, che come da titolo spingerà i giocatori a vedere le cose da un'altra prospettiva. Potete raccontare ai nostri video ascoltatori di cosa si tratta? Sì, Another Sight è principalmente una storia di crescita di questa ragazzina, Kit, che si perde in questo mondo sotterraneo sotto Londra. All'inizio del gioco però Kit rimane non vedente, quindi rimane senza vista. Diciamo che acquisisce un altro tipo di senso, una sorta di ecolocalizzazione. Quando abbiamo cominciato a pensare a come fare le co-organizzazioni abbiamo pensato di chiedere a persone non vedenti effettivamente come fosse non vedere, è molto difficile per un vedente capire. Quindi abbiamo collaborato con l'Istituto Circhita di Milano e ci hanno fatto un po' spiegare. Loro ci hanno praticamente detto una cosa molto interessante, ovvero che i suoni creano un'immagine virtuale nella loro mente. Questo mi ha fatto venire in mente gli artisti che creano mondi dalla creatività, abbiamo meschiato le cose insieme e è venuta fuori una cosa molto artistica, un filtro impressionista sull'acicità. L'altro personaggio principale del gioco è Ogg, che è un gatto misterioso che aiuta Kit e al tempo stesso è un po' i suoi occhi nell'oscurità. Allora, il titolo ha riscosso un discreto successo in territorio tedesco ad agosto. Come invece il pubblico italiano ha approcciato al gioco questi giorni e alla Mian Games Week? Com'è andata? Allora, beh, innanzitutto qui a Games Week gli indipendenti sono tantissimi, è grandissimo, c'è un sacco di fermento e un sacco di casino anche. È stata un'esperienza veramente distruttiva da un punto di vista di vedere tante tante persone che vengono a provare il tuo gioco. Piace un po' a tutti, ovviamente essendo un gioco narrativo non si presta tantissimo poi all'evento fieristico, però comunque tanta gente apprezza, comunque capisce il messaggio che vogliamo portare. Allora, artisticamente il titolo è tra i più ispirati mai apparsi sul panorama videoludico nazionale, amalgamando situazioni oniriche e sensazioni molto particolari. Come siete riusciti ad amalgamare un concetto tanto dedicato come l'acicità a un mondo così buio e colorato al tempo stesso? Beh, sì, in realtà lo dicevo anche prima, la parte artistica, non volevamo fare l'ecolocalizzazione da pipistrello, bianco e nero o un po' alla Daredevil, volevamo fare qualcosa di diverso che si capisse che era unico, insomma. Noi abbiamo quindi optato per una parte molto artistica, molto forte sulla cicità. Al tempo stesso volevamo rappresentare sì un disagio, ma al tempo stesso volevamo essere rispettosi della cosa. Ok, faccio l'ultima domanda. Quando potremo finalmente vedere il gioco sugli scaffali? E quali sono gli altri progetti attualmente in cantiere in casa Lunar? Beh, allora, sugli altri progetti non posso dire niente, è la domanda sempre più delicata. Per quanto riguarda invece il gioco è disponibile già dal 6 settembre su Steam, lo stiamo anche seguendo con diverse attività, abbiamo già fatto alcune patch, eccetera. su console verso fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo su PS4 One e Switch, quindi, insomma, seguiteci sui nostri canali e ne vedrete delle belle, speriamo. Va bene, Andrea, io ti saluto, sei stato gentilissimo. Grazie mille, ciao! Ciao!